Che glielo manda? E il messaggio? Nam-san. Ho bisogno del suo aiuto. Che razza di mostri sono? Il giorno del grande terremoto. L'unico medico sopravvissuto. Io vi aiuterò a sopravvivere. Il mondo esterno è pieno di barbari. Solo il dottor Ian è la nostra speranza. Per le persone che si sono introdotte al piano interrato, la prego ci risparmi la vita 1 e passeremo i nostri ultimi momenti nel semiterrato 9! La 1. Dov'è, Suna? Non so se lo hai capito, ma non sono più umani. Siete vivi voi due?